Lo sport come veicolo privilegiato di chi arriva in Toscana per turismo è stato al centro della 26esima edizione della Borsa del Turismo Sportivo Attivo e del Benessere Termale, la BTS, ospitata per la prima volta dall'isola d'Elba a Portoferraio. 67 buyer nazionali ed internazionali, 150 seller e un ruolo di primo piano della regione toscana nella manifestazione. L'Elba con questa BTS entra anche dal punto di vista mediatico al centro del mondo dell'outdoor come già da anni, devo ringraziare per questo tutti quelli che si sono adoperati per portare la BTS all'Elba, ringrazio la regione toscana, l'Elba fa parte della Toscana e in questo caso daremo il meglio di noi per far vedere tutti i percorsi e le attività che si possono fare all'Elba e in Toscana. Dalla BTS è stato lanciato Costa Toscana, il primo progetto di vacanza sostenibile d'Europa promosso da una destinazione turistica e presentato da Toscana Promozione Turistica, tanti gli operatori pronti a scommettere su un nuovo modo di fare turismo in Toscana perché turismo e sport aprono insieme importanti prospettive. Nella nostra costa siamo sull'Elba, pensare a una bella gara velica che all'insegna di Cosimo Primo dei Medici ci riporta da Piombino all'Elba o una gara che è lì in piazza Bovio a Piombino oppure a Puntala ci porta il nuoto di fondo. A fianco del turismo tradizionale nascono insomma nuovi tipi di turismo, quello sportivo e quello sostenibile e quanto emerso dalla BTS saranno il futuro. La regione ha detto che vuole fare dell'Elba un laboratorio di queste che per lei sono le politiche del futuro e noi come selezione avvergatori ho accettato la sfida e ho detto facciamo un percorso insieme.